ah non finiscono e ci inizia così vai inizia ecco come inizia vai eh già partita sparata oh si uhuh partita sparata un po' sparata è una batteria sparata non finisio ah 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 è già partita di sua subito è partita subito proprio sparata proprio eh a casissimo ovviamente vai ora inizia a vivere proprio il primo parte abbasso un po' inizia a ah ecco qua E qui sparano a terra Il tipico mare impiame Tipo come il 2016 Devi pensare Il�� genere Si è reale Il generale Limenti Il차 Monat Un pesco il serpente fischianti Grazie. 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 Perché la stiamo vedendo? Vai. La cedrata. La cedrata, sì. Per me è stata quasi una bibita alla banana. No, per me è la cedrata. Eh. Le moltiplicazioni. La cedrata. Da quelli dell'amato del Carmine. Eh. A parte quello. Se hanno le ticchierose, dov'è le ticcerazioni. Ah. Wow. Eh, che... E infatti, c'è meno confusione per ora. Sì. grazie non credo quanto dura questo? non credo cedrata proprio a volontà non credo 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 non credo